ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video non sono padre maronno non state guardando padre maronno ma sono montoneer benvenuti ragazzi allora cerchiamo di guardare dritto allora oggi cosa vi devo dire di molto importante praticamente ufficiale l'arrivo di gorsens all'inter ha fatto le vigite mediche sta andando in sede a firmare in questo momento in cui sto registrando il video contratto di quattro anni gorsens è il nonno tedesco che farà parte della storia dell'inter dopo i vari brevi amatteus e altri grandi nomi e quindi e quindi niente e clinsman eccetera e appunto ahimè per la mia atalanta questa cessione inaspettata perché comunque in gennaio l'atalanta è raro che si privi di un nome così grosso adesso staremo a vedere se l'atalanta appunto sostituirà il partente robin con come pare cambiaso del genoa giocatore che a me non mi dispiace per niente bisogna vedere se è vero perché l'atalanta potrebbe anche fare con quello che ha non è detto che che per forza faccia qualche operazione in gennaio però cambiaso del genoa dopo che praticamente si è fermata la pista lazari della lazio inter sempre inter che starebbe e avrebbe un'opzione per scamacca e frattesi a giugno quindi per st'estate e appunto per questo motivo qui il sassuolo starebbe per prendere lucca dal pisa lucca che giocatore che era partito veramente bene in serie b segnando a raffica tanti tanti gol e staremo a vedere se tutto questo incastro di cosa alla fine succederà e quindi scamacca sarà dell'inter secondo me più facile st'estate appunto che adesso e il sassuolo appunto si starebbe già parando le natiche come si suol dire con l'acquisto di lucca per il futuro è ufficiale anche l'asetic al milan ha firmato anche il ragazzo giovanissimo della stella rossa ha preso la maglia numero 22 di cacca quindi una maglia un po pesante un po pesante e niente ragazzi vi invito a iscriverti al campanile a mettere mi piace commentare ci vediamo al prossimo video grazie di cuore dell'affetto al prossimo grazie di cuore ciao un abbraccio ciao 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 ciao